Musica Musica Eccoci con Salvatore Ninja di Eurosport Allora, porta blindata anche questa partita? Sì, abbiamo giocato bene, è stato netto, si poteva giocare un po' meglio, abbiamo sbagliato davanti però sono le prime partite e bisogna anche rodarsi un po' insieme Anche perché è uno dei migliori in campo, non lo sente risultato il gol portiere Ha fatto dei grandi parati, è molto bravo, lo sapevamo che era bravo quindi siamo contenti del risultato Naturalmente anche dall'altra parte un grande portiere che non ha incassato anche un gol Dall'altra parte è bravissimo il portiere Portiere di lungo corso Portiere di lungo corso, bravissimo Ho visto un all'altro con Buffon però poi lui ha scelto di andare alla Juve io ho scelto invece di seguire la via della presidiglia e quindi sono più felice di così Quindi adesso lotta per arrivare in testa al girone? Sì, prima abbiamo dato a sport poi ci sarà appunto media, sentito sulla carta Dic match Ma appunto ci si gioca al girone lì poi vedremo come succede Poi nei primi occhi che succede, succede Naturalmente si punta Si punta a vincere il torneo perché abbiamo un giocatore più forte del torneo e poi abbiamo vincito Che è il portiere Perché il portiere sono due Il portiere e l'attaccante Grazie 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 Grazie.